Sì, non so come potrei non portarvi con me Diamo Ragazzi, venerdì c'è un torneo importante di FIFA Cosa veramente importante Stiamo aspettando le pizze Stiamo aspettando le pizze Si gioca il 50-50, si sa Ragazzi, il money ha già vinto un po' troppo C'è arrivata le pizze, ragazzi Per un giorno niente è dieta Ok, sabato, ragazzi Non vi porto come questa volta Perché vi ho portato un sacco di volte allo stadio Però sto andando a vedere Crystal Palace Brighton Dopo però ho un sacco di cose da fare Prima di fare una cosa importante Come avrete capito dal titolo Seguitemi un attimo e vi spiego il tutto Eccoci qua, ragazzi È sabato notte O meglio domenica mattina Perché è l'una meno un quarto Crystal Palace Ho già vinto 3-2 Bellissima partita E siamo rimasti Abbiamo visto anche un po' di giocatori Domani abbiamo un volo Come avrete visto dal titolo Finalmente dopo 4 anni Torniamo a New York Quindi sto cercando di rimanere Il sviluppo più possibile Perché altrimenti Con il jet lag Una volta che arriviamo a New York Poi siamo nuovamente stanchi Quindi ne sopravvissiamo Sto finendo le ultime cose di lavoro E poi si parte Domani vi spiego Perché stiamo andando a New York E domenica sono le 10 e mezza Alle 4 e mezza Abbiamo il volo per New York Dove staremo una settimana E poi dopo New York Andremo da un'altra parte Ma di questo ne parlerò più avanti Naturalmente non ho ancora fatto la valigia Sarà ora che inizio a prepararmi Che è meglio Ragazzi lo so Sono sempre in ritardo Però ho un pregio Riesco a farmi la valigia ogni volta Che stia andando dietro a casa Che stia andando in Sardegna Che stia andando a New York O dall'altra parte del mondo Riesco a farmi sempre la valigia In un minuto e mezzo Però Però la devo fare Meglio che inizi a farla Ok pronti La valigia è un po' vuota Ciao belli Ciao a due stimone So come potrei non portarvi con me Andiamo Ma ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Sei contenta che andiamo a New York? Contenta contenta? Si non so contenta che c'è anche la telecamera Come no E vorresti poi lasciarli a casa? Adesso sei diventata anche un influencer No è molto smitta L'unica mia paura raga È che l'ultima volta a New York Mi ha fatto un effetto Pazzesco E mi ha fatto decidere Di trasferirmi a Londra Non vorrei che Mi facesse ancora più male E decisi di restare a New York Non è un viaggio solo di piacere E vi spiego perché Ok raga Siamo a Gatwick Dove abbiamo appunto Il volo diretto per New York JFK Stiamo andando a New York Un po' per vacanza Vi ho detto Un po' per lavoro Per Edit Media E soprattutto Cercare di lavorare Con dei brand Proprio per capire un po' Come funziona Poter poi Aiutare anche I clienti di Edit Media E anche perché È ciò che amo fare Ossia Viaggiare Raccontarvi nuovi posti Nuove città Documentare il tutto Infatti sono riuscito ad ottenere Una collaborazione con British Airways Ci hanno dato Un ultimo sconto Per appunto Per i voli Per documentarvi Il viaggio Per documentarvi Come viaggiare con loro Ma sono soprattutto soddisfatto Della collaborazione Tenuta con l'albergo di New York Perché vi spiegherò il perché Perché è un albergo Veramente veramente Bello E in una bellissima posizione Ma ve ne parlerò Quindi sono molto molto contento Di queste collaborazioni Ce n'è anche qualche altra Come vi ho detto Saranno episodi un po' più corti Ma ce ne sarà qualcuno in più Soprattutto adesso che siamo in viaggio E che voglio raccontare tante cose Ricordatevi di iscrivervi al canale Commentare Mettere like Condividete la pagina Magari c'è un amico Un vostro amico Qualche amico Che ama New York Che vuole scoprire più informazioni Questo è il momento giusto Di parlarvi del canale Non è il weekend Però nel frattempo Uscite divertitevi Uscite con i vostri amici Non bevete troppo O meglio fate quello che volete come al solito E ci vediamo al prossimo episodio Che non credo che sarà Fra tanto tempo Noi partiamo raga Buona